Con la ripartenza di gran parte del settore culturale sono tornati a svolgersi i concerti all'aperto e al chiuso con le opportune disposizioni di sicurezza dettate dal periodo pandemico. Sabato al Teatro Rasi sarà di scena Ima Joseph & Band Freestyle, il progetto musicale di Beppe Auriglia inserito nella rassegna 2021 del Beppe Auriglia Teatro. Siamo molto felici di tornare dopo tantissimo tempo e abbiamo tantissime novità anche perché nel lockdown abbiamo prodotto tantissimo, infatti presenterò il mio quarto disco che si chiama Luna Park che è un mix di musica rap e trap tra cui tanti brani sono stati creati da Michael Pogue che è il mio produttore. Domani diamo un'anteprima di mix di miei brani costruiti un po' di anni fa che vanno dal reg al pop per poi mescolarla con la trappola, insieme a me c'è tutta la band freestyle tra cui il batterista Stefano Calvano, il testerista Mare Accardo e vi aspettiamo a teatro e siamo pronti. Diciamo che è molto bello ritornare in teatro dopo tutto quello che abbiamo passato, soprattutto di vedere i compagni di viaggio anche perché dietro ai musicisti c'è tutta una preparazione anche tecnica, ci sono i tecnici che lavorano e quindi è bello ritrovarsi di nuovo la famiglia per poter iniziare a ricominciare come il circo. Questo è un grande circo e senza la musica, senza il teatro non c'è vita, non c'è allegria e quindi non c'è circo. È da tanti anni che collaborate, com'è tornare insieme finalmente dopo le chiusure dovute al Covid sul palco? È stata una cosa meravigliosa, era ora, non vedevamo l'ora di suonare insieme e incominciare qui a Rasi sicuramente è la maniera migliore in un bellissimo teatro con tutta la band dal vivo e con il pubblico. In che effetto fa anche per voi musicisti? Una grande bella emozione, riavere di nuovo il contatto fra di noi e soprattutto con il nostro pubblico, una cosa meravigliosa.